tra la stesura originaria e quella approvata dalle Camere. Dall'opposizione interviene Giorgia Meloni che rilancia non c'è cambiamento senza presidenzialismo e su questo siamo pronti a raccogliere firme e il socialista Nencini avverte. Possiamo discutere di taglio di parlamentari, di referendum e propositivo aggiungerei anche la discussione su una forma nuova di Repubblica il semipresidenzialismo serve a rendere più autorevole una bella storia istituzionale della Repubblica italiana.